La situazione qua sta degenerando, ma degenerando leggermente, della serie che mi sta facendo girare i coglioni abbastanza, forse troppo E questo non va bene, no? Non va per nulla bene, non va un cazzo di bene Raga, io, non sono io, ok? È da circa due settimane, no, una settimana e mezzo, diciamo Due settimane, non so quanto figa di tempo è passato Che molti di voi mi hanno detto, Frost, ma c'è una cosa strana Ho notato che le visual delle live si sono abbassate E io il primo giorno ho detto, cazzo, bene, faccio schifo al cazzo io Cioè non so fare, non so più farle, non so più intrattenere E quindi dai, vediamo cosa poter cambiare, neanche cosa poter fare Porco il cazzo, no, non è quello figa È perché quel figa di YouTube, del Cristo di YouTube, non sa fare il suo lavoro Non è che adesso c'è una persona che fa il lavoro YouTube Non voglio dire quello, dico che porca troia Manda avanti gente che non, non se lo merita Quindi favorisce gente che non se lo merita Che fa il cazzo che gli pare, quant'altro E invece quelli che si fanno un culo quadrato Comunque cercano di mandare avanti una cosa Un progetto per far divertire della gente Ma soprattutto per far passare qualche ora di sorriso o eccetera Non viene ricompensato Sta cosa mi sta leggermente sul culo Ok? Sta cosa mi sta leggermente sul cazzo Perché non è possibile, ok? Non è possibile che due persone si impegnano Ok? Due persone, cazzo dico Cinque persone si impegnano, ok? Per fare una cosa, per fare divertire della gente Ce la fanno Ma non c'è rientro, non c'è rimando Quello che sto dicendo Non è perché piango le visual per i soldi Non me ne frega un cazzo del guadagno, raga La cosa che dico io è Diamo a Cesare ciò che di Cesare Se io faccio una live di cinque ore Con 400 spettatori, ok? 400 spettatori che vanno e vengono Però non calano, ok? Non calano Per la maggior parte del tempo Io voglio essere ricompensato Voglio essere ricompensato perché sto dando una cosa Ovviamente gratis Ma un minimo da YouTube voglio essere ricompensato Ma non per i soldi Perché così magari, sai, aumentano le visualizzazioni La gente ti vede, conosce il canale E altra gente può divertirsi Altra gente può avere del sorriso da noi È quello che mi fa girare il cazzo, ok? Seriamente, è quello, porca troia Cioè, ma non me ne frega un cazzo dei soldi Non me ne frega un cazzo del resto Vorrei solamente Che YouTube riconosca quello che facciamo Cosa che non sta facendo Il problema qual è? Il problema qual è? Che non avendo tanto tempo per fare i video normali Siamo obbligati a fare le live Ma se le live non vanno bene, alla fine Non va bene il complesso Ed è questo che mi fa incazzare Perché una volta, quando Prima, non so perché Non so che cazzo sia successo Quando facevamo gli stessi visualizzatori Quindi gli stessi spettatori Io stesso tempo di live 13.500 visual Adesso mi si blocca 4.500 Ora, io arrivo a pensare Cazzo, effettivamente faccio schifo io Ma no, non è così Perché è bloccato Sono bloccate Non vanno avanti Blocca-te Adesso Ci sono quelli che mi sono venuti a dire Sì, ma Non è così Perché gli spettatori sono per sempre gli stessi Non c'entra un cazzo Perché? Perché ho La cosa delle altre live Le altre live Con lo stesso tempo Con gli stessi spettatori E quant'altro Hanno fatto visual della Madonna Ed era una cosa bella Perché vuol dire che la gente ti guarda Tu sei felice di quello che fai Se invece poi tu fai una cosa E grazie a Dio Ci riesci Riesci a rendere felici le persone E quant'altro Cazzo un minimo Ricompensaci Per quello che facciamo Cioè 5 ore in live Sono tante Sono veramente tante Però YouTube non frega un cazzo YouTube pensa a mandare avanti gli altri Manda avanti gli altri Vaffanculo Grazie a tutti